L'ex ospedale militare come possibile sede alternativa per la biblioteca provinciale De Meis. E quanto emerso nel corso dell'incontro svoltosi ieri a Chieti presso la sala giunta della provincia, si tratta di un'ipotesi circolata in questi giorni confermata dal sindaco di Primio, il quale ha annunciato che la struttura sarebbe stata inserita tra i beni alienabili da parte dello Stato e da destinare agli enti locali. La biblioteca De Meis è una priorità per questa provincia, ha dichiarato a margine dell'incontro il presidente Di Giuseppe Antonio, una provincia che ogni anno stanzia 600 mila euro per il suo funzionamento. Noi vogliamo una sede prestigiosa, fruibile e accessibile per tutti. La ricostruzione della sede storica comporterebbe costi al momento insostenibili, senza il sostegno della regione con i fondi FAS, poiché a fronte dei 5 milioni e 800 mila euro necessari, la provincia ha attualmente a disposizione 1 milione e 100 mila euro, destinati solo ed esclusivamente alla sua messa in sicurezza. E altresì possibilista, sull'ipotesi dell'ex ospedale militare confermata dal sindaco Di Primio, il presidente Di Giuseppe Antonio, sarebbero necessari fondi per l'adeguamento, la messa a norma, l'eliminazione delle barriere architettoniche e anche per garantire una sede prestigiosa e accogliente per l'immenso patrimonio della De Meis. Tali fondi non possono che essere i FAS. Nel corso dell'incontro è emersa una positiva unità di intenti. A fine novembre sarà convocato un nuovo incontro con le associazioni per fare il punto sullo stato dell'arte.